Ieri, secondo me, alla fine è andata bene. Ma lo ha detto, non possiamo dire che si vada avanti con certezza. Io devo ancora conoscere nella vita chi ha le certezze di fronte a sfide di questo tipo, quindi le certezze non ce le ha nessuno. Io posso dire che dopo la riunione di ieri sono molto soddisfatto, perché ieri sul campo c'era l'annullamento delle universiadi, il rinvio delle universiadi e lo sfilamento complessivo di fronte a problemi tutto sommato non enormi. Ieri c'è stata una volontà fortissima della città di Napoli, non solo della città di Napoli, ho molto apprezzato diversi interventi, tra cui quelli del governo, che quindi le universiadi si possono e si debbono fare, che non ci sono problemi insommontabili, che per gli impianti sportivi il Comune di Napoli a fine luglio aggiudicherà tutte le gare, il tema che è rimasto è quello che il CONI e le federazioni devono mettere in campo, la loro programmazione che ovviamente metteranno in campo appena sarà definito il 13 luglio il quadro generale, e rimasto in campo le opzioni su dove fare il villaggio, che non è come dire uno il villaggio del Comune e l'altro il villaggio della Regione, c'è la proposta del commissario e della FISU che è il villaggio, dopo che per mesi e mesi non c'era nulla, perché delle navi non c'era ancora nulla e finora c'è solamente una nave. Ieri si è preso atto che il Presidente della Regione in qualche modo ha detto che per lui è improponibile solamente il villaggio, siccome per noi è prioritario fare le universiadi e non c'è una battaglia di religione, abbiamo sempre dato la disponibilità a trovare un obiettivo che possa contemperare tutte le esigenze. Quindi è stato dato mandato dalla cabina di regia, su rigressa del Presidente dell'ANAC al commissario, da qui al 13 di luglio, di trovare eventualmente più navi. Se si trovano più navi si possono contemperare l'esigenza del villaggio, come è stato detto, è quella delle navi. Se non si trovano altre navi rimarrà un progetto, che è un progetto vero, non fumoso, che non deturpa l'essenza erbore, che rispetta la mostra d'oltremare e che consente da quel punto di vista comunque di fare universieri. Io credo che alla fine si possa arrivare all'obiettivo di una, chiamiamola, mediazione tra tutte le proposte in campo. Questa potrebbe essere l'idea, dove ci sarà da una parte le navi e da una parte il villaggio. Quindi siccome da questo punto di vista noi abbiamo chiarito in modo netto che per noi le università si possono fare. Quindi se ci sono altri poi che si assumono la responsabilità di non farle, è un problema che riguarda altri. Io ho molto apprezzato la capacità di mediazione del governo, che ha confermato non solo i finanziamenti per gli impianti, ma di fronte soprattutto alla posizione della città di Napoli, della FISU, che ringrazio, che la FISU ha lanciato un appello, ha detto l'Italia non può perdere universiadi, al contributo molto utile del presidente Lanac Cantone. Io credo che ieri sono create tutte le condizioni perché si possa arrivare al 13 con un commissario che ha sondato se ci sono altre navi. In questo caso noi metteremo in campo tutte le azioni, nonostante le navi non ci convincono per nulla, perché creano problemi di trasporto, di sicurezza e di altro, però se questa è la decisione complessiva della cabina di regia per noi va bene perché le universiadi ci sembrano chiaramente un obiettivo assolutamente prevalente, non si possono perdere universiadi perché c'è una nave in più o una nave in meno. altrimenti se le navi non ci sono, perché la proposta delle navi non è quella del Comune, lo ripeto, è la proposta del commissario e della FISU, quindi se di fronte alla sollecitazione della cabina di regia noi ci troviamo di fronte che altre navi non ci sono, il nostro progetto c'è. Quindi se qualcuno poi farà saltare le universiadi per un progetto che c'è, non è certo la responsabilità nostra, ma noi riteniamo che da qui al 13 si possa trovare sicuramente un punto di equilibrio. Grazie.